Musica Ed eccoci di nuovo insieme in diretta per il nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, con la vicenda di San Nicandro Garganico dove da qualche giorno non si hanno più notizie di un anziano, continuano incessanti le ricerche di Giuseppe Pertosa, l'82enne scomparso giovedì scorso nei boschi di San Nicandro Garganico. Siamo in provincia di Foggia, alcuni effetti personali dell'uomo sono stati ritrovati nella giornata di ieri su un lato del canale Lampione. Vediamo il servizio di Antonella Davola da Foggia. Si sarebbe inoltrato nel bosco Spinapulci, in agro di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, alla ricerca di funghi senza però fare rientro a casa. Proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Pertosa, l'82enne disperso dalla mattina del 16 novembre scorso. Le operazioni coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, con il supporto del centro operativo comunale di San Nicandro Garganico, vedono impegnati tutti i mezzi e le tecnologie a disposizione in questi casi. Cani, droni e elicottero, compresi i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno cercato di scandagliare alcune piscine per l'abbeveraggio zootecnico. Nella tarda mattinata di domenica 19 novembre, a metà di un versante del canale Lampione, in posizione compatibile con il luogo in cui è stata ritrovata l'auto dell'uomo, sono stati individuati alcuni effetti personali riconosciuti dai familiari. Questo nuovo elemento ha portato a concentrare le ricerche su un'area circoscritta di oltre 200 ettari, a tratti abbastanza impervia e a richiedere la disponibilità di volontari a piedi, esperti di aria boscate e conoscitori della zona. Intanto andiamo sul sito di Antenna Sud, antennasud.com, costantemente in aggiornamento H24, vedete il cadavere di un uomo di circa 40 anni, è stato trovato nella mattinata di domenica 19 novembre in un appartamento a Barletta, non si esclude che il decesso sia dovuto a cause naturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui sono affidate le indagini, in questo per quello che riguarda la cronaca dell'Abbat. Ci sono altre notizie di cronaca dell'ultimora sul sito di Antenna Sud, che andiamo a vedere velocemente insieme. C'è stata questa vicenda giudiziaria che si arricchisce di un nuovo capitolo, la donna morta di parto all'ospedale Perrino, c'è il no della famiglia alla richiesta di archiviazione, la famiglia di Viviana Delegò, insegnante di 42 anni, rimorso lo scorso 22 dicembre, dopo aver dato la luce a due gemelli, ha presentato attraverso il proprio legale opposizione alla richiesta di archiviazione della procura. Lo comunica a Lanza Paolo Dincecco, avvocato difensore della famiglia della donna. La procura brindisina ha chiesto nelle scorse settimane l'archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio colposo a carico di ignoti. Ora attendiamo la decisione del giudice per le indagini preliminari, ha spiegato l'avvocato, se il GIP valuterà ammissibile la nostra posizione, allora si fisserà l'udienza in Camera di Consiglio. Altre notizie di cronaca nera delle ultime ore. Questa che ci giunge da Taranto, nella notte c'è stato un incidente stradale, auto senza controllo si schianta contro il Gardelail, un ferito grave, vedete le foto pubblicate sul nostro sito realizzate da Francesco Manfuto, su Fuso due feriti, di cui uno grave, trasportato in ospedale in codice rosso, e questo è il bilancio di un incidente avvenuto a Talzano, Borgata di Taranto. Il conducente di un Alfa Romeo ha perso il controllo, sbandando più volte e quindi è andato a sbattere. Prima contro lo spartitraffico, poi violentemente contro il Gardelail. Una persona è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. E adesso andiamo a vedere la classifica di Italia oggi. Eccola qui, Bolzano, secondo quello che stabilisce Italia oggi, che ha commissionato questo sondaggio, ed è comunque una classifica attesa, che fa discutere, che fa ovviamente anche arrabbiare in alcuni casi. E allora vedete la città, o meglio la provincia, dove si vive meglio nel 2023 è risultata Bolzano. Poi al secondo posto Milano, al terzo c'è Bologna, qui scorrendo la classifica vediamo in verde dove si vive meglio, fino al posto numero 27, sono praticamente tutte città del nord Italia. Bolzano, Milano, Bologna, Trento, Firenze, questi primi cinque posti. Poi scorrendo più sotto vediamo le Pugliesi e le Lucane, la provincia di Potenza è quella che fa registrare il miglior piazzamento. Al posto numero 71 finisce la provincia di Potenza. Un gradino più sotto ci va la provincia di Matera, quindi le due Lucane vanno in testa per questa speciale classifica di Puglia e Basilicata. 71esimo posto per Potenza, 72esimo per Matera, mentre per trovare una pogliese bisogna andare all'82esimo posto e troviamo la provincia di Bari. Seguita da Lecce all'84esimo posto, vedete man mano che si scende la classifica assume contorni sempre più rossi, quindi dicevamo Lecce all'84esimo posto, poi abbiamo Brindisi al novantesimo, la Bat però c'è prima all'85esimo, Brindisi al novantesimo, Foggia al novantaseiesima posizione e infine la provincia di Taranto al posto numero 101. La peggiore provincia, secondo quanto scrive Italia Oggi, è quella di Crotone che si piazza all'ultimo posto. Ci sono tutte siciliane poi a seguire, Caltanisetta, Messina, Grigento, Catania e Siracusa dal posto 102 al 106. Ultimo una calabrese e quindi in rosso, qui dove si vive peggio, nelle province dove si vive peggio, soltanto province del Mezzogiorno, del Sud Italia. Detto questo andiamo avanti, adesso parliamo delle comunali, delle comunali a Bari, la direzione provinciale del PD è in attesa dunque che si riunisca il tavolo del centro-sinistra di quest'oggi, sta valutando anche quello che è venuto a galla nel corso della convention, nel Movimento 5 Stelle, un'assemblea in vista appunto del tavolo del centro-sinistra barese sulle comunali. Vediamo il servizio di Antonio Bucci. No, noi non abbiamo previsioni nei confronti di nessuno al momento e vogliamo individuare il candidato sindaco che possa garantirci come movimento politico e possa soprattutto rispettare quello che abbiamo già introdotto nel programma. Niente veti sui nomi né preclusioni neppure sulla candidatura di Michele Laforgia a disposizione del centro-sinistra barese per le comunali con tanto di abbandono da parte del penalista della Presidenza dell'Associazione della Giusta Causa. Il Movimento 5 Stelle si incontra in vista del nuovo round dal tavolo del centro-sinistra. Il PD ci arriverà con l'azzeramento sulla rosa di nomi interna arrivato nell'assemblea di sabato vale per Marco Lacarra ma pure per Paola Romano e per il collega Pietro Petruzzelli che fa capolino all'incontro dei pentastellati. Prendiamo atto delle decisioni che ha preso il Partito Democratico e che porterà al tavolo questa loro posizione. Sicuramente il confronto fatto nei bar o nelle segreterie di partito non ci interessa. Noi abbiamo rispetto profondo rispetto di quel tavolo e di tutte le forze che ci siedono. Il primo risultato è l'allontanarsi delle primarie troppo divisive spiegano e sulle quali il Movimento è stato irremovibile. L'obiettivo è esportare il modello Foggia almeno nel metodo. Beh, quello sarebbe l'optimum se potessimo portare un nostro nome. Non so se avverrà questo. La cosa importante è permettere al Movimento 5 Stelle e anche le altre forze politiche che si riuniscono in questo campo giusto di poter governare Bari. E intanto c'è la nota anche di Italia Viva Bari prendiamo dagli organi di stampa dell'azzeramento di tutte le candidature dell'APD per le comunali di Bari del prossimo anno alla vigilia dell'incontro della tavola del centro-sinistra previsto per oggi il 20 novembre Italia Viva comunica che qualora l'Avvocato La Forgia confermerà la propria candidatura non avrà problemi a sostenere lo stesso e quanto annuncia il presidente provinciale barese di Italia Viva Stefano Franco. Vediamo adesso come il quotidiano ha affrontato questo tema prima di proseguire con la pagina politico-amministrativa e spostarci a Taranto ecco il titolo che apre la cronaca di Bari comunali le strategie il coordinatore provinciale innamorato non esclude a priori il sostegno all'avvocato all'assemblea dei pentastellati presente anche il Dem Petruzzelli dopo lo stop giusto ascoltare elettori e simpatizzanti la forgia nessuna preclusione il movimento 5 stelle tra aperture e tatticismi poi movimenti anche nel centro-destra scrive il quotidiano per le amministrative a Bari Forza Italia annuncia nuovi ingressi stasera si gioca a carte scoperte mentre a Stellati tornando al tavolo del centro-sinistra ribadiscono il loro no alle primarie e intanto intensificati i contatti tra Emiliano e Conte nessun veto su alcun nome fin qui il quotidiano proseguiamo adesso con la pagina politico-amministrativa come dicevamo andando nel capologo ionico dove c'è grande fermento anche un pizzico di caos la direzione provinciale del PD di Taranto deciderà stasera se ratificare la proposta della segreteria regionale di uscire dalla giunta Melucci e quindi aprire in qualche modo una crisi politica a Palazzo di Città a Taranto e passare all'appoggio esterno dopo l'esclusione di Francesca Vigiano dalla giunta comunale Francesca Vigiano che era sempre stata all'interno dell'esecutivo di Palazzo di Città a Taranto l'onorevole Ubaldo Pagano intanto dice siamo stati maltrattati ovviamente riferendosi a quello che è accaduto a Taranto il servizio di Leo Spalluto appoggio esterno alla giunta Melucci o richiesta di chiarimento è il dilemma che la direzione provinciale del PD di Taranto dovrà dirimere nella serata di lunedì 20 dopo il rimpasso deciso dal primo cittadino venerdì scorso Melucci ha escluso dall'esecutivo l'assessore all'ambiente Vigiano per il venire meno del rapporto fiduciario ma allo stesso tempo ha nominato l'altro dem Gianni Azzaro vice sindaco l'addio a Vigiano invece ha suscitato la dura reazione delle segreterie regionali di PD con i 5 Stelle che hanno annunciato l'appoggio esterno alla giunta che dovrà però essere confermato dai rispettivi organi statutari e la parlamentare PD Ubaldo Pagano intanto ribadisce la propria delusione per l'uscita dai democratici di Melucci e le decisioni assunte nell'ultimo periodo il partito democratico che ha maggiormente voluto questa esperienza amministrativa a Taranto è stato maltrattato in una maniera indescrivibile è stato fatto peraltro incidendo su personalità che ci avevano messo la faccia durante le elezioni e che erano stati i portabandieri di quello che abbiamo chiamato la rivoluzione gentile tarantina lunedì è stata convocata un'assemblea cittadina in quella circostanza sentiremo la voce di tutto il gruppo dirigente per capire come questa interlocuzione questo filo che si è interrotto peraltro in maniera incomprensibile possa essere riannodato nel migliore dei modi e intanto emerge che la giornata di oggi diventa importante se non fondamentale per il centrosinistra per la scelta del nome del candidato sindaco a Bari e per il futuro anche della maggioranza a Taranto al Consiglio Comunale intanto andiamo nuovamente sullo quotidiano quotidiano di Taranto Europa Verde valuta l'uscita dalla maggioranza Melucci e quanto scrive Paola Casella il consigliere Lenti sembra escludere l'appoggio esterno alla Giunta e la possibilità di un passaggio nei ranghi dell'opposizione al sindaco alta tensione nel PD dopo il licenziamento dell'assessore Vigiano che è stato un po' il passaggio che non ha gradito il Partito Democratico per quel che riguarda Taranto poi ricorderete l'uscita recentissima del sindaco Melucci dal PD nelle cui liste è stato eletto nel giugno del 2022 intanto il presidente dell'AMIU Mancarelli predica calma e la ricerca di soluzioni vediamo la foto di Antonio Lenti che in consiglio comunale rappresenta Europa Verde poi grande attesa per la riunione della direzione provinciale del PD che si annuncia dai toni roventi intanto restiamo sulla fronte politico spostandoci a Lizzano dove è stato organizzato un incontro dal circolo PD per parlare di buone pratiche amministrative ospite d'onore della serata il sindaco di Bari Antonio De Caro il sindaco di Bari Antonio De Caro e l'onorevole Ubaldo Pagano come ospiti le buone pratiche amministrative al centro del dibattito il circolo Nilde Iotti del PD di Lizzano ha scelto due esponenti di punta per dare il via ad una serie di incontri di formazione politica la comunità DEM di Terra Ionica si è radunata nel palazzo Marchesale per ascoltare la testimonianza di De Caro presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani simbolo di buona amministrazione tra i primi cittadini più amati d'Italia ormai quasi alla fine del suo mandato alla guida della città di Bari tra i relatori anche il revisore contabile Aldo Marino nella serata presentata da Deborah Noternicola è un modo per discutere per affrontare i temi che riguardano le nostre comunità per guardare con più fiducia a futuro scambiarsi anche le buone esperienze che ci sono nelle nostre amministrazioni comunali cambiano le domande da parte dei nostri concittadini e cambiano anche le risposte che le amministrazioni comunali devono dare quindi ci sono i luoghi di discussione dove scambiarsi esperienze sensazioni anche soluzioni innovative alle nuove problematiche quindi ascoltare i cittadini capire quali sono i loro bisogni cercare di aiutarli a superare le paure e interpretare anche quelli che sono i sogni e le aspirazioni delle nostre comunità credo sia anche il mestiere più bello per gli amministratori locali noi inauguriamo oggi una fabbrica una fabbrica di cittadinanza attiva appunto e cioè l'esigenza di ritrovare appunto la voglia di associarsi di nuovo e di non essere più soli perché associandosi si sta insieme agli altri e si inizia a contare magari anche nelle decisioni sempre per la pagina politica quotidiano di Lecce dove si andrà al rinnovo del consiglio comunale centro-sinistra primarie salvemini attacca centro-destra in confusione in vista della sfida di domenica 26 ottobre contro il consigliere Patti nella serata di ieri il sindaco ha incontrato Lecce città pubblica al convinto Palmieri l'incontro organizzato da Lecce città pubblica con salvemini in vista nelle primarie del 26 novembre ovviamente non 26 ottobre la replica avendola siamo aperti all'ascolto dal 2017 quindi questo è quello che accade a Lecce anche lì c'è un'attesa per queste primarie che si svolgeranno a fine mese per comprendere meglio quale sarà l'orientamento per la scelta del candidato del centro-sinistra nel capologo salentino torniamo a Bari adesso nel teatro Piccini il sottosegretario viceministro Sisto e il governatore Michele Emiliano in una versione inedita vediamo quale nel servizio che segue questa volta è tutto finto e i due big della politica istituzionale si scambiano i ruoli in tribunale non quello vero ma sul palcoscenico del teatro Piccini di Bari il sottosegretario Francesco Paolo Sisto nei panni del pubblico ministero e il presidente Michele Emiliano in quelli dell'avvocato per la ringa nel processo di Landru rappresentazione che chiude l'ultima giornata del 27esimo congresso nazionale dei giovani avvocati lei il presidente oggi vi scambiate i ruoli ma il teatro il teatro è questa la capacità anche di interpretare i ruoli che non sono i tuoi io mai farei il pubblico ministero nella mia vita dopo aver fatto l'avvocato per tanti anni momentaneamente con la contoga appesa al chiodo ma momentaneamente quindi però il teatro è questo e bisogna anche saperlo interpretare con attenzione con garbo anche divertendosi staremo a vedere però è chiaro che è una serata leggera di divertimento dove ognuno di noi si mette in ridicolo come si deve fare ogni tanto è stata una bella impresa beh sì 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 ma più che altro questa volta ho avuto l'intento che finalmente ci sono riuscito di portare il teatro in tribunale Landru era un serial killer che uccideva le donne per poi derubarle dei loro averi e dei loro soldi ed è purtroppo una storia che si ripete sistematicamente quindi è evidente che giudici e avvocati hanno bisogno di alleggerire la tensione di questo terribile fenomeno che ancora non ha fine questo però questo momento di leggerezza apre anche la riflessione dicevamo anche col presidente Emiliano su un tema molto sentito che cosa vorremmo chiedere al legislatore per stradicare questo fenomeno bisogna abbattersi soprattutto dal punto di vista culturale c'è tanto da fare non tanto punire io penso che la punizione è giusta per carità ma la sanzione arriva sempre troppo tardi dobbiamo fare in modo che questi fenomeni possano drasticamente diminuire magari evitare che ci sia un prossimo Landru torniamo alla cronaca andando a vedere come hanno commentato i giornali la vicenda di Mesagne ginocchiata alla nuca mister magazziniere mi hanno salvato la vita l'episodio che si è verificato in campo Francesco D'Angelo racconta i momenti drammatici vissuti nella partita di sabato a Mesagne quando è svenuto non so davvero come ringraziare il nostro magazziniere Masino Giovanni Distante il nome del magazziniere e il mister Mino Miglietta per avermi letteralmente salvato la vita sono queste le parole del diciottenne Francesco D'Angelo che vediamo in questa foto che commentando quanto è accaduto sabato pomeriggio allo stadio Guarini di Mesagne l'occasione della partita del campionato Junior S regionale di calcio contro il Novoli e restiamo in provincia di Brindisi per un approfondimento su quella che è stata la svolta nella indagine che ha portato all'arresto in Emilia Romagna dell'attitante Brindisino Gianluca Lamedola che decapita di fatto questo arresto decapita di fatto il clan considerato più pericoloso della Sacra Corona Unita come ci spiega Gianmarco di Napoli La saga del clan Lamedola Cantanna si chiude almeno per il momento in un piccolo condominio di Correggio comune di 25.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia e qui che è ospite di una famiglia del posto si nascondeva Gianluca Lamedola 34 anni considerato ai vertici della Sacra Corona Unita Brindisina e ricercato esattamente da quattro mesi era riuscito a scappare a piedi per le campagne tra San Vito dei Normanni e Brindisi mentre i carabinieri arrivavano alla sua masseria incontrata Mascava per arrestarlo probabilmente ha trascorso le prime settimane di latitanze in quella zona che lui conosce perfettamente e poi si è spostato in Emilia in un piccolo comune nel quale pensava di essere al sicuro questa volta alla Mendola non è stata concessa alcuna possibilità di fuga individuata l'abitazione nella quale si nascondeva il palazzo è stato circondato dai carabinieri giunti dal comando provinciale di Brindisi e dalla compagnia di San Vito dei Normanni che hanno fatto quindi irruzione il ricercato non era armato e non ha tentato alcuna reazione poco dopo è stato rinchiuso nel carcere di Reggio Emilia pesantissime le accuse nei suoi confronti è ritenuto al vertice di un clan mafioso della Sacra Corona Unita specializzato nel traffico di droga e nelle estorsioni ma è anche accusato di tentati omicidi violenza privata lesioni personali detenzione di armi da guerra e autoriciclaggio con la sua cattura il clan che farebbe riferimento a Carlo Cantanna nonno di la Mendola e storico boss della Sacra Corona Unita può considerarsi decapitato proprio i tre personaggi considerati più importanti erano riusciti a sfuggire al blitz del 18 luglio Rosario Cantanna figlio di Carlo arrestato poi in Germania il 21 settembre scorso nel parcheggio di una pizzeria italiana Mino la Mendola padre di Gianluca catturato quattro giorni dopo il 25 settembre in un trullo nelle campagne di Ostuni e Cisternino e ora Gianluca la Mendola ritenuto il più pericoloso di tutti individuato dopo quattro lunghi mesi di indagine a 850 chilometri di distanza da casa e ancora la cronaca torniamo sul sito di Antenna Sud per una notizia che giunge dal Salento da Tricase ferito da cavi elettrici mentre passeggia col cane è accaduto nelle scorse ore un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere entrato in contatto con un cavo della rete elettrica caduto all'interno del suo terreno incontrata mito a Tricase secondo quanto accertato all'interno della proprietà dell'uomo si trova un albero di pino attraverso il quale passano i cavi elettrici a causa di circostanze ancora in fase di accertamento i cavi si sono disallineati cadendo per terra entrando in contatto con il cinquantenne che stava passeggiando come dicevamo col suo cane la scossa ha fatto cadere l'uomo che ha riportato una contusione al braccio come riscontrato dai medici dell'ospedale Perino di Brindisi dove è stato trasportato per gli accertamenti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'aria andiamo adesso nella BAT dove si continua a fare prevenzione per allertare gli anziani ma anche le loro famiglie per fronteggiare e eludere i tentativi di truffa l'iniziativa della Will vediamo il servizio bisogna essere diffidenti non aprire mai la porta di casa agli sconosciuti anche se si presentano come amici dei nipoti e non consegnare denaro a nessuno per pagare multe o cauzioni anzi allertare la polizia e l'ABC contro le truffe agli anziani ribadito dalla Will pensionati che ha organizzato un tour in tutti i capoluoghi pugliesi per prevenire i raggiri la persona anziana ha timore di denunciare un po' perché si vergogna dall'altra parte siccome una pena certa non c'è dicono adesso sanno dove abito sanno il mio numero di telefono e se ritornano e se mi minacciano con violenza quindi ci sono tutte queste diciamo ripercussioni che le persone anziane hanno in questo episodio di truffe e raggiri che li vede come maggiori vittime un dibattito svolto anche per ascoltare le paure degli anziani e provare a dare risposte che li mettano in condizioni di reagire la segretaria regionale Will ha spiegato il fenomeno per analizzare le dinamiche messe in atto dai truffatori questi malfattori fanno anche leva sull'immediatezza quindi non dando la possibilità alla persona anziana di riflettere se si dà loro la possibilità di capire che cosa sta succedendo loro sanno affrontarla la situazione quindi questo progetto serve proprio per renderli autonomi capaci di affrontare perché poi loro si sentono inadeguati dicono allora io non sono più in grado di autodeterminarmi di stare in questa società dunque solo informando e stando loro vicini sarà possibile creare una rete di tutela per questo è fondamentale che gli anziani si sentano vicini alle istituzioni e adesso il metodo vediamo quali sono le previsioni per le prossime giornate per le prossime ore e poi torneremo insieme per altri servizi continueremo a parlare di cronaca affronteremo il tema della povertà che attanaglia e non poco anche la nostra regione ma anche tanti altri argomenti della cronaca nera andando a noci siamo nel barese in questi giorni è stata celebrata la giornata mondiale contro le vittime della strada ebbene c'è stata un'iniziativa nell'ambito di questa ricorrenza che abbiamo voluto seguire anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sentiamo da noci Ottavio Cristofaro anche a noci si è celebrata la giornata mondiale delle vittime della strada con una serie di iniziative organizzate dall'associazione potignanese vivilastrada.it una santa messa organizzata nella parrocchia di San Domenico a noci dedicata a Leonardo Morea e ufficiata da Don Vito Gentile Leonardo Morea aveva vissuto in prima persona quel dolore con la perdita nel 2014 del figlio Gianni e purtroppo recentemente anche a lui è toccata la medesima sorte è una giornata che dobbiamo riflettere tutti quanti abbiamo bisogno di questa riflessione abbiamo bisogno di fare attenzione abbiamo bisogno di rispettare le regole abbiamo bisogno di vedere la vita in un modo più bello voi come associazione Vivi la strada siete impegnati in questa campagna costante di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale la nostra associazione va sul posto quando succedono i sinistri stradali al termine della funzione è stato deposto un fascio di fiori alla base della stella commemorativa ai giardinetti di via Don Emanuele Caronti la consapevolezza deve essere quella della formazione dei nostri ragazzi non c'è altra non c'è altra strada noi lo stiamo facendo grazie anche al nostro comando di polizia municipale stiamo organizzando nelle scuole degli incontri con i ragazzi per far capire loro che insomma la strada è qualcosa di preziosissimo ma qualcosa di pericolosissimo e dunque va trattata in questa maniera consapevolezza per se stesso e per gli altri e adesso affrontiamo due temi che rappresentano la stretta attualità in Puglia e Basilicata dai dati che emergono siamo diventati più vecchi e più poveri vedete quello che scrive il quotidiano non è una regione per giovani e questa è la Puglia in 40 anni sono spariti i ragazzi e Lecce diventerà una città anziana il report dell'osservatorio a Forisma restituisce un quadro desolante in Puglia in quattro decenni pensate gli over 65 sono più che raddoppiati e le stime per il 2038 non sono confortanti anzi sono allarmanti soprattutto per il Salento qui Giuseppe Martella fa un bel servizio parlando di quello che è l'inverno democrafico in Puglia ma non è soltanto un problema di invecchiamento di anzianità questo è anche un problema perché poi c'è quello un po' più attuale quello un po' più imminente ovvero la problematica legata alla povertà c'è questa nuova povertà che sta venendo a galla iniziamo con i nostri servizi il caro vita e i cittadini sono costretti a fare sempre più rinunce come emerge da questo sondaggio che abbiamo fatto per strada nel capologo regionale a Bari si riesce ad arrivare a fine mese o è difficile con il caro prezzo è dura è dura ormai ci stanno uccidendo con tutte queste tasse tutte queste spese tutto aumenta tranne che gli stipendi caro vita si riesce ad arrivare a fine mese o si fanno delle rinunce si fa fatica effettivamente però si stringe da altre parti ecco si si fanno delle rinunce per arrivare a fine mese certo si fanno tante rinunce a che cosa rinunce a tante cose perché io sono separata ho figli e quindi devo pensare ad aiutare i figli pur che sono sposata c'hanno i muti i ragazzi a scuola diciamo che io qualche rinuncia la faccio un po' come tutti ahimè però insomma mi ritengo anche abbastanza fortunata non sono rinunce importantissime un paio di scarpe in meno le serate anche si esce una volta in meno ci sono delle rinunce che rispetto a prima si fanno è ovvio tu ovviamente se uscivi più di una volta adesso ti mantieni esci una volta due volte cerchi di fare il possibile purtroppo più andremo avanti peggio sarà secondo me ho rinunciato molte cose pesce carne cioè la carne diciamo vado sul maiale sul pollo e guardo le offerte devo dire la verità è una vita di sacrificio ho cominciato a 12 anni ho 62 anni e lavoro ancora per i figli non per me per aiutare loro perché non ce la fanno a fine me poi i nonni sai come sono quindi è una vita di sacrificio stipendi nostri non aumentano mai se mai diminuiscono la vita aumenta tantissimo ma noi stiamo e quindi è inutile fateci conoscere le vostre difficoltà se ci sono delle situazioni particolarmente difficili segnalatelo alla redazione di Antenna Sud redazione chioccio l'antenna sud punto com noi facendo il nostro mestiere metteremo in evidenza queste situazioni e cercheremo di dare una mano andiamo avanti adesso perché abbiamo sentito ci sono delle rinunce che vengono fatte dai cittadini perché c'è questa nuova povertà che induce a fare tanti sacrifici a rinunciare a determinate cose a determinati beni a determinati piaceri ma c'è chi non lo fa e cioè si concede ugualmente questi beni ma si indebita andiamo a Lecce un Salento apparentemente in crisi questo si leggerebbe nelle ultime analisi economiche che consegnano la fotografia di un allarme crescente anche nel Salento dove aumenterebbe la sofferenza economica che spesso sfocia nel sovra indebitamento nella sola provincia di Lecce si contano attualmente 415 immobili residenziali sottoposti ad asta giudiziaria questo significa che 415 famiglie sono state costrette a lasciare la propria casa nel Mirino anche gli imprenditori sono attualmente 130 immobili commerciali artigianali e industriali in vendita per asta giudiziaria sullo scenario di crisi del territorio leccese al 30 giugno scorso risultavano 229 milioni di euro in sofferenza ovvero soldi non rimborsati agli istituti di credito da parte di 5.097 soggetti tra persone fisiche ed aziende 62 milioni di euro non sono stati ancora rimborsati da parte di 3.504 cittadini residenti nella provincia di Lecce nel corparto delle costruzioni ci sono altri 32 milioni di euro in sofferenza riconducibili a circa 124 ditte e nel settore delle attività industrie ed artigianali ci sono 25 milioni di euro riconducibili a 125 aziende un quadro allarmante che però sembra in contrasto con la realtà percepita nella Lecce della Bella Vita locali affollati auto di lusso e vetrine con prezzi da capogiro una fotografia plastica molto diversa da quello che traspare dei numeri quasi a dividenziare la solita discrasia dalla città che appare e la città che è e intanto oggi ricorre la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza come dicevamo la Puglia si invecchia aumentano tanto gli over 65 diminuiscono i giovani e i minori in Puglia vedete sono attanagliati da questo SOS della violenza vedete questo titolo del quotidiano con il servizio di Alessio Pignatelli un dossier interessante e poi c'è quest'altro titolo i poveri sono sempre di più una situazione dunque che lascia perplessi ricorre oggi la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza i dati confermano i gap fra nord e sud del paese il tacco d'Italia è tra le regioni leggiamo più povere e tra l'altro in cui gli under 18 sono più a rischio maltrattamenti e cresce la povertà adesso andiamo ad Avetrana dove c'è stato un incontro tra il comitato Piazza Vittorio Veneto e la cittadinanza per discutere sulla demolizione dell'opera d'arte moderna doppie vele un simbolo della città sentiamo Marzia Baldari rivogliamo la fontana e questo il leitmotif del neonato comitato Piazza Vittorio Veneto di Avetrana che ha organizzato un incontro con la cittadinanza sul destino di un'opera abbattuta il comitato nasce da una petizione che è stata fatta che ha raggiunto in pochissimo tempo 800 firme è stata una notizia molto dolorosa da parte mia ho cercato gli ultimi giorni quando ho saputo di questa decisione ho cercato di entrare in contatto con l'amministrazione in effetti sentì il sindaco si tratta della doppia vela la fontana ideata da Massimo Fagioli in collaborazione con una coralità di architetti di recente demolita perché è stato di totale abbandono un triangolo alto sinuoso come una donna mediterranea nera alta bella una madre che tiene per mano un bambino che la guarda la fontana rappresentava il simbolo turistico della città e di socialità per i cittadini lasciato poi al triste destino del degrado sino al suo abbattimento ma il comitato avetranese non ci sta e sensibilizza la comunità a conoscere la storia dell'opera persa e a rivendicare una riqualificazione urbana un'opera che ha avuto più successo diciamo all'estero e nel panorama nazionale più che non qui in ambito locale quindi vorremmo che fosse riscoperta anche perché in questo modo questa cittadina ha perso un'opera importante il fatto che sia stata demolita un'opera d'arte a me lascia molto stupita molto perplessa infatti era una cosa importante per il paese per il territorio avere un'opera d'arte moderna io mi auguro che venga riedificato intanto c'è questa notizia di poco fa a Foggia è stato nominato il nuovo vescovo ecco la notizia inserita alle 6 e 41 dalla nostra collega di Foggia Antonella Davola un genovese sacerdote missionario in Bonzamico e membro della fraternità missionaria di Sant'Egidio è il nuovo pastore dell'Arcidiocesi di Foggia Bovino si tratta di Monsignor Giorgio Ferretti nato a Genova il 27 novembre 1967 la vediamo in questa foto che è stata pubblicata sul nostro sito d'Antonella Davola appartiene al clero della diocesi di Frosinone Veroli e Ferentino nelle scorse ore il Papa ha nominato Don Ferretti nuovo arcivescovo di questa chiesa particolare subentra Monsignor Vincenzo Pelvi che lascia l'incarico per raggiunti limiti d'età 75 anni la notizia è stata in contemporanea fornita dalla Santa Sede dall'Arcidiocesi pugliese e da quella frusinate alla presenza dell'Evescovo Ambroggio Spreafico carico di significato il messaggio di saluto di Don Ferretti per la sua inaspettata nomina che ha voluto rivolgere ai fedeli alla sua futura diocesi la comunità della Capitanata carissimi fratelli ha scritto fratelli e sorelle vi scrivo da molto lontano sono parroco della cattedrale di Maputo in Mozambico un paese dell'Africa meridionale una terra grande bella e allo stesso tempo sofferente sono qui dal 2016 per una scelta missionaria maturata nella comunità di Sant'Egidio e quindi arriva a Foggia con un messaggio di pace maturata e firmata a Roma già da giovane ho imparato ha detto Monsignor Ferretti vescovo di Foggia ne ho nominato la forza è da bellezza di incontrare Gesù nei poveri ma qui in Africa ho scoperto una povertà così grande ma anche tanta forza spirituale eccolo qui il nuovo arcivescovo di Foggia di Capitanata Foggia Bovino torniamo a Lecce adesso per parlare dell'inaugurazione attesa quasi 15 anni del Parco delle Cave di Marco Vito il servizio è di Per Andrea Fanigliulo è stato inaugurato con una vera e propria coloratissima festa il Parco delle Cave di Marco Vito uno scrigno verde donato alla città di Lecce che da lunedì 20 novembre si era aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 e 30 un vero e proprio gioiello di riqualificazione green che unisce al meglio passato e presente questo è un progetto che è partito con le precedenti amministrazioni in applicazione di una previsione specifica del viecchio PRG che indicava la realizzazione di un parco delle Cave si riuscì a ottenere un primo finanziamento il concorso internazionale poi vinto dall'architetto Alvaro Sizza e poi un lungo percorso legato al reperimento di ulteriori fonti di finanziamento complessivamente sarà saranno stati investiti circa 9 milioni e mezzo di euro qui in questo spazio un altro scrigno verde restituito alla città di Lecce davvero 7 ettari magnifici si finalmente anzi dopo non poche difficoltà restituiamo questo polmone verde alla città ovviamente dopo malsteria d'agliatelle è un altro tassello che si aggiunge come parco alla nostra città fruibile per i nostri cittadini meraviglioso perché racconta un po' la storia di questa città e anche un po' quello che è il futuro della città cioè la fruibilità di questi grandi parchi urbani e adesso dobbiamo andare a Mesagne perché c'è stato un episodio una circostanza unica e positiva vale a dire quattro eventi in contemporanea nella città di Mesagne che ormai da tempo un punto di attrazione turistica della nostra regione quattro avvenimenti in contemporanea come dicevamo ancora una domenica sold out dunque per Mesagne vediamo come è andata perché abbiamo cercato di mettere insieme questi quattro eventi con Gianmarco di Napoli e tra questi anche la mostra di Caravaggio che è stata inaugurata quest'estate sentite una domenica completamente sold out per Mesagne invasa da migliaia di persone che si sono distribuite in quattro diverse zone della città per altrettanti appuntamenti completamente diversi tra loro dalla straordinaria mostra dedicata alle opere di Caravaggio e dei suoi contemporanei allestita nel castello alla tradizionale fiera del cappotto nel piazzale del liceo scientifico a quella degli animali e delle masserizie in via Brudolini fino al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo accanto alla villa comunale ovunque serpentoni di gente per tutta la giornata e a pranzo problemi per chi non ha prenotato perché i ristoranti della città sono tutti pieni e in molti sono costretti a spostarsi nei comuni vicini la fiera del cappotto che si tiene nella terza domenica di novembre è un vero e proprio black monday non solo per i mesagnesi ma per le famiglie provenienti da tutta la provincia quest'anno per la prima volta è stato scelto come location il piazzale del liceo scientifico Epifanio Ferdinando sull'altro lato della città alla periferia in direzione latiano la fiera dedicata alle masserizie agli attrezzi agricoli e alle ultime bancarelle per la vendita degli animali che rispettano ormai i protocolli rigidissimi accanto alla villa comunale i venditori retro le vecchie monete e gli oggetti del passato che attirano ogni terza domenica del mese appassionati e curiosi ma il vero straordinario colpo d'occhio è quello che viene regalato dal castello Normanno Svevo una fila incessante di visitatori provenienti da tutta la Puglia e non solo oltre mille biglietti staccati in poche ore per la mostra Caravaggio il suo tempo impreziosita dal recente arrivo della Maria Maddalena in estasi da Trani ci dispiaceva avere una mostra così vicino e non venire a vedarla è una cittadina ci è piaciuta moltissimo abbiamo ammirato appena arrivati una chiesa barocca che è bellissima noi eccesi poi siamo particolarmente legati al barocco ma mi ha fatto un'ottima impressione proprio la città come distribuzione delle strade come cura della città quindi ci ha fatto un'ottima impressione Mesagne Avete saputo che il sindaco di Mesagne risulta essere il più amato addirittura d'Italia? Io penso che abbiano ragione perché abbiamo avuto modo dieci minuti fa di conoscerlo una persona gentilissima che è vicina alle esigenze dei visitatori ha fatto lui in modo che oggi il museo sia un tempo continuato per poter dare a tutti l'opportunità di visitarlo quindi vive il sindaco questo esempio di turismo dedicato alla cultura la religione è sicuramente un'offerta in più che la Puglia propone ai suoi visitatori oltre al divertentismo oltre alle magiche serate della Costa Ionica c'è anche questo tipo di turismo in Puglia legato all'arte alla cultura alle bellezze meditative andiamo avanti adesso spostandoci sulla città di Bari il capologo regionale dove ci sono cantieri in città è quanto scrive il quotidiano di Bari con il pezzo di Samantha Dell'Edera il PNRR altri 10 asili nido e corsa contro il tempo per non perdere i fondi il comune ha ancora soltanto 10 giorni di tempo per avviare i cantieri delle opere per evitare che possano essere definanziate in totale grazie ai nuovi asili nido che saranno realizzati i baresi avranno a disposizione oltre 600 posti in più ottimista Galasso assessore comunale tutti i verbali di consegna entro i termini quindi vedete questo è il titolo e poi i disagi ovviamente i cantieri nelle città portano ai disagi però è pur vero che se non ci sono i cantieri non c'è ristrutturazione non ci sono ammodernamenti non si migliora la viabilità pertanto quando siamo insofferenti nel traffico perché c'è una lunga coda a causa di un traffico dettato da un cantiere pensiamo anche che è una cosa necessaria lavori in via Manzoni è un calvario a sbalto rifatto e poi rotto nuovamente questo è quanto viene denunciato dai cittadini di Bari di via Manzoni poi un monumento dedicato alle vittime del covid nel parco della caserma Rossani tutto all'improvviso è il nome dell'opera che è stata inaugurata nel parco Rossani una scultura dedicata a tutte le vittime di questa malattia che l'artista Carlo Nitri ha voluto regalare alla città di Bari lo ha dichiarato il sindaco Antonio De Caro che ha partecipato all'inaugurazione dell'opera installata nell'area verde a ridosso della stazione dunque il primo monumento in Puglia dedicato o uno dei primi sicuramente dedicato alle vittime del covid andiamo avanti adesso perché ci trasferiamo riprendiamo l'argomento dedicato al turismo e alle potenzialità che ha la Puglia perché adesso si parla pugliese pensate in Giappone una sfida all'ultimo boccone tra sushi e crudo di mare ma anche la storia di uno chef che ha esportato le orecchiette in Giappone e le prepara all'esterno del suo locale a Tokyo insomma esattamente come avviene a Barivecchia quando le simpatiche donne signore e anziane baresi preparano le orecchiette tra la gente vedete quello che è successo a Tokyo il crudo di mare da una parte il sushi dall'altra un pasta fresca party e poi una sfida all'ultimo boccone per consolidare i rapporti tra Puglia e Giappone si chiude così la trasferta istituzionale della delegazione di Via Gentile testimoni alle celebrities hanno potuto assaporare la degustazione proposta da Roberto Di Donna il nostro pane al pomodoro con carpacci di pesce piccoli bocconi a mangiare one by one e sono straordinari perché richiamano quello che è il nostro pane kunzeoto e soprattutto ascoltare storie Kadota ad esempio vuol dire angolo ed è un ristorante che sorge ad un incrocio del popolare quartiere Toshima di Tokyo si chiama così perché lo chef Nayuki Arai ogni giorno si mette all'angolo col suo banco di legno e prepara a mano le orecchiette esattamente come avviene in Puglia sono andato in Puglia in Puglia e lavorato nel ristorante di Pepe Zillo ho imparato come fare orecchiette da nonna del chef di Pepe Zillo prima di servire orecchiette faccio sapere tutti come viene orecchiette come viene grano arso tanti giapponesi piacciono orecchiette di grano arso insomma avete visto viene esportata l'orecchietta ma non solo anche questo tradizionale modo di farle le orecchiette all'esterno dei propri locali insomma stiamo facendo scuola in qualche modo sul fronte turistico adesso andiamo a Leporano perché in questo comune sulla costa in provincia di Taranto si sono date appuntamento in questo weekend appena trascorso le compagnie teatrali pugliesi di teatro amatoriale con la FIDA la federazione italiana teatro amatori che ha voluto celebrare proprio a Leporano questa cerimonia di consegna di riconoscimenti nei confronti di questa gente che si impegna che sale sul palcoscenico per passione il servizio il teatro amatoriale pugliese si è dato appuntamento a Leporano nel Tarantino per l'open fest cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle compagnie teatrali che si sono particolarmente distinte affollato il castello Muscettola per un evento in cui è stata evidenziata l'importanza culturale del teatro fatto per passione scelta la sede di Leporano perché la compagnia teatrale Satirion ha vinto il festival nazionale FIDA Italia e così ha ospitato e organizzato con il presidente provinciale Lino Conte e la presidente regionale Anna Maria Carella la festa del teatro per la premiazione di Scena Punto Zero 2024 La federazione italiana di teatro amatori si distingue per raccogliere tutte le compagnie amatoriali cosa vuol dire che tutti quanti i nostri affiliati hanno un altro lavoro ma si dedicano con passione e con grande talento alla costituzione di spettacoli realizzazione di spettacoli molto importanti e belli Che cosa significa per chi fa teatro da sempre come te un evento del genere Significa veramente dimostrare ancora una volta che gli anni non bastano mai non bastano mai per poter dire quello che hai dentro perché il teatro che ci fa vivere le vite di altri personaggi ti fa uscire dalla propria vita ti insegna altro è qualcosa di meraviglioso e queste manifestazioni questo festival questo premio serve anche a questo E adesso andiamo nuovamente sul nostro sito sul sito di Antenna Sud per leggere qualche altra notizia andiamo in Basilicata vedete Potenza quanto è accaduto nel weekend con la presenza del Ministro Calderoli parte dal Motel Park alla presenza di Tre Big del partito la campagna elettorale della Lega in Basilicata tema centrale dell'incontro che ha visto un'ampia partecipazione di amministratori e simpatizzanti del Carroccio è stata l'autonomia differenziata questo è l'appuntamento questa foto questo servizio che abbiamo realizzato in onda tra l'altro nell'edizione di pranzo di sabato il nostro telegiornale parla del Ministro Calderoli che ha parlato appunto di autonomia differenziata strumento per la Basilicata ma più in genere per il Sud bene adesso ci fermiamo perché dobbiamo dare la linea alla regia curata sapientemente come sempre quest'oggi dal nostro Fabio Pignatelli poi avremo come ogni giorno il nostro telegiornale sportivo oggi lunedì e pertanto avremo il riepilogo di quello che è successo nel mondo del calcio non ha giocato la serie A riposo anche per la serie B quindi in campo sono scese le squadre di serie C di serie D di eccellenza quindi vi mostreremo tutti i servizi delle pugliesi delle lucane che hanno giocato ieri ma un solo calcio anche basket e volley ci vediamo dopo per gli approfondimenti rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti